La sconfitta di Avezzano ha inguaiato ulteriormente il Fuzzallanciano, ancora di più impegnato a scrollarsi di dosso dalla pericolosa influenza dell'orbita play-out. I rossoneri sono chiamati al pronto riscatto approfittando dell'impegno interno in quel di Castelfrentano dove ricevono il Minerva. I teatini, che non hanno disputato la propria gara casalinga con lo SportsCenter Celano, rinviata al prossimo 23 febbraio, non possono concedersi molte distrazioni visto che al netto del recupero la zona calda non è poi così distante. La vittoria servirebbe ai rossoneri per ridurre il divario anche dai rivali odierni e rimettere tutto in discussione per i discorsi relativi alla salvezza. Per i teatini muovere la classifica sperando di ripetersi anche nel recupero significherebbe tornare prepotentemente in corsa anche per un posto al sole. La gara non ha neanche il tempo per proporre le canoniche fasi di studio e dopo tre giri di rancette va a sbloccarsi e fa sorridere il quintetto ospite che passa all'incasso grazie alla rovere il quale sorprende Menna con un siduro dalla distanza che sfrutta il tiro d'angolo di Cornacchia e anche la deviazione del palo alla sinistra dell'estremo locale. La reazione lancianese è affidata ad Antonio che non incute particolari tremori all'attento Ricci schierato dall'inizio al posto di Ambrosini che si accomoda in panca. Intervento di ordinaria amministrazione anche per il suo mologo Menna, anche lui schierato al posto del titolare del Romano che se la cava senza difficoltà per respingere la conclusione ravvicinata di Di Nardo. Sull'altro fronte Ricci è pronto per smanacciare la sfera sul velenoso diagonale dalla destra di Di Giulio e va poi a sfiorare il pallone sul siduro dalla distanza di Massimini. Parentesi Minervina con un paio di affondi di Di Nardo e la rovere. In entrambi i casi Menna risponde presente e limita i danni. I padroni di casa provano a rientrare in gioco e prima dell'intervallo si fanno vedere con maggior convinzione dalle parti dell'estremo giallo-blu ma le iniziative di Di Giulio, Massimini e ancora Di Giulio non sortiscono gli effetti sperati e la frazione va a chiudersi col prezioso vantaggio di misura della truppa di mister Marianetti. Al riavvio dei giochi è il quintetto di casa a prodursi nella prima iniziativa in zona d'attacco con Palmerio fermato da Ricci ma sono i Minervini a confermarsi ancora una volta più pragmatici andando a colpire fragorosamente la prima trasferta dalle parti di Menna, castigato ancora dalla rovere con una perfida affiondata che sorprende l'estremo avversario e la distratta retroguardia rossonera. I teatini provano ad approfittare del momento di scoramento avversario e vanno ad insistere in zona d'attacco e in effetti dopo l'incursione di Pantalone e la rovere quest'ultimo va ancora a colpire all'affondo successivo quando realizza la sua tripletta pomeridiana dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Di Giulio e aver chiuso il fraseggio stretto con il suo compagno di squadra Pantalone. Mister Semigliani deve rischiare la carta del portiere di movimento che poco dopo con Massimini e Palmerio potrebbe regalargli qualche soddisfazione ma la retroguardia giallo-blu riesce in qualche modo a limitare i danni ma come spesso asserito si tratta di una tattica indotta dalla disperazione che a volte premia ma molto spesso può peggiorare la situazione. E' proprio questo uno dei casi visto che Ricci salva sulla conclusione ravvicinata di Di Giulio e il suo compagno di squadra Pantalone approfittando della ribattuta del proprio portiere può indirizzare la sfera dalla propria zona difensiva nella porta avversaria rimasta incustodita entrando di fatto nel tabellino marcatori e incanalando l'esito conclusivo della sfida verso un finale chiaramente colorato di giallo-blu. Massimini e Di Giulio provano a suonare la carica ma i due alfieri frentani non vivono sicuramente una delle loro giornate migliori e per Ricci la conservazione del personale clean sheet tra i pali non è un problema insormontabile almeno in questa fase. Il momento negativo frentano è acuito anche dal cartellino rosso rimediato da Del Romano per proteste che dalla panchina termina la sua giornata negli spogliatoi con sensibile anticipo rispetto a tutti gli altri protagonisti della sfida. Menna nel frattempo limita i danni sul diagonale dalla destra di Di Lorenzo. Buona reazione frentana nelle fasi successive anche se Ricci riesce a conservare l'inviolabilità sugli affondi di Forte, Monte e Massimini. Il Minerva Sorgnone fa sfogare gli avversari e va poi a colpire al primo affondo utile dalle parti di Menna costretto a soccombere per la quinta volta in giornata. La rete teatina è griffata da pantalone al bis personale con una conclusione che riesce a sfruttare l'invitante suggerimento di Capitan Cicco Tosto e la contemporanea uscita dai pali dell'estremo frentano. È troppo tardi per sperare in una rimonta ma i ragazzi del presidente Andreoli cercano almeno di rendere meno vistoso il divario e in parte vi riescono. Cupido riduce infatti il punteggio castigando Ricci con un tocco a ridosso del secondo palo che sfrutta l'invitante suggerimento di Pasquini dalla destra. Rinfrancati dal primo squarcio di sole di giornata i padroni di casa insistono in zona d'attacco e dopo il doppio tentativo di Pasquini e Di Giulio annullato da Ricci e dal suo pacchetto arretrato arriva il bis personale di Cupido che fissa il definitivo 2 a 5 comunque favorevole agli ospiti con un tocco ravvicinato e ancora su invito di Pasquini. Non vi saranno ulteriori variazioni di punteggio nonostante i tentativi nel finale di Di Nardo e Massimini ma stavolta i due abitudinari del tabellino marcatori rimarranno stranamente all'asciutto. Rispetto al sette rosso-nero il pivò Minervino può consolarsi abbondantemente con il bottino pieno raccolto dalla sua squadra che fa un significativo balzo in avanti verso la tranquilla permanenza in categoria. Lorenzo Larovera ai nostri microfoni dopo questa rotonda vittoria qui a Castelfrentano contro il Futsal Lanciano siete ormai la bestia nera del Futsal perché è il terzo confronto se consideriamo anche la Coppa tre vostre vittorie. Sì vabbè comunque sono sempre partite decise da episodi, sempre partite diciamo da combattere fino alla fine e sì sicuramente c'è anche una piccola dose di fortuna per vincere, senza di quella non riusciremmo sempre. Tre punti importanti che vi permettono di allontanarvi ulteriormente dalla zona calda? Sì assolutamente, ogni partita per noi l'obiettivo è sempre lo stesso, tre punti e siamo felici di esserci riusciti oggi anche fuori casa in un campo così complicato. Adesso un tour de force perché la prossima settimana giocherete due gare, fortunatamente per voi tutte e due in casa però nel giro di tre giorni. Sì, comunque abbiamo un organico capace di affrontarle entrambe, comunque ci saremmo allenati giovedì e sicuramente è un buonissimo allenamento, un buonissimo banco di prova alla partita col Celano di giovedì. Simone Di Nardo, il pivote del Minerva, oggi non ha partecipato al Festival del Gol ma l'importante era la vittoria? Assolutamente, l'importante era ritrovare i tre punti dopo un paio di partite in negativo insomma abbiamo incontrato le prime della classe e ce la siamo giocata ma insomma oggi abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria, un po' di acciacchi qua e là ma ce l'abbiamo fatta. Come dicevo al tuo compagno, la prossima settimana un tour de force con due gare nel giro di pochi giorni potrebbe essere la volta buona per tornare a sperare in qualcosa di più della salvezza tranquilla? Beh certo, da come si è messo il campionato insomma principalmente la salvezza è quello che ci importa poi vediamo e le partite rimaste non sono tantissime, non sono poche insomma possiamo levarci ancora delle belle soddisfazioni Il Lanciano invece secondo te può farcela evitando anche i play-out? Assolutamente sì, il Lanciano è ben organizzato, è ben seguito, un ottimo mister che io ammiro notevolmente quindi penso non avrà assolutamente problema a tirarsi fuori da questo ingorgo insomma Mister Similiani se può in qualche modo consolarla un pochino Simone Di Nardo sosteneva che non ci saranno problemi ad ottenere la salvezza con questa squadra però i giocatori dovranno anche rispondere presente sul campo Ringrazio Simone della fiducia ma sinceramente non sono molto fiducioso perché ogni sabato diciamo sempre le stesse cose quindi a parte la parentesi con il Ripa queste sono cose che si ripetono praticamente settimanalmente quindi non so, la situazione è sicuramente difficile e credo che sarà davvero molto complicato uscire dalla zona play-out a questo punto perché oggi era una partita da vincere a tutti i costi l'avversario era la portata con noi, nostra e soprattutto la squadra che deve uscire da questa situazione dovrebbe avere una cattiveria agonistica particolare probabilmente noi non siamo capaci e ci ritroviamo a parlare di un'altra sconfitta Oltre alla bravura del portiere e avversario però quest'oggi come diceva lei non c'è stato il giusto mordente anche negli uomini chiave Massimini e Di Giulio che sottoporta hanno fallito diverse occasioni Beh è chiaro, il portiere sta lì per parare quindi non è che è una giustificazione dire il portiere ha parato ci mancherebbe, no? A noi ci puniscono ma alla prima occasione subiamo gol ed è successo anche oggi al primo tempo ovviamente non è che sto dando la colpa ai miei portieri perché non è quello il discorso quando ci ritroviamo in questa situazione è la colpa di tutti a partire dalla società io mi prendo le mie grandi responsabilità però come hai detto tu ogni giocatore deve assumersi le sue perché poi in campo forse non tutti mettono quello che devono mettere e i risultati sono questi quindi se l'anno scorso probabilmente c'è stato un campionato miracoloso visto che l'organico bene o male è quello dell'anno scorso quest'anno sono usciti tanti limiti e si evidenziano nelle partite perché giustamente sottolineato abbiamo avuto diverse occasioni per restare in partito addirittura anche pareggiarle andare in vantaggio ma non le sfruttiamo, non siamo in grado di avere quella cattiveria che ti permette di fare gol ed è giusto che perdi C'è da lavorare sulla testa dei giocatori più che sulle gambe? Beh questa è una cosa che io sto cercando di fare ormai da mesi perché la nostra situazione è questa da tanto non è che ci siamo arrivati oggi però non è così facile perché probabilmente i miei ragazzi non hanno l'abitudine a giocare in queste posizioni di classifica dove ci vuole, ripeto, concretezza più che la giocata, la bellezza della partita in sé questo noi non ce l'abbiamo credo che sia palese al di là se ci sono le assenze o non assenze perché poi a me non piace assolutamente aggrapparmi le giustificazioni perché abbiamo avuto la squadra al completo abbiamo perso l'abbiamo avuta non al completo abbiamo perso ugualmente quindi c'è un problema di fondo le partite che arrestano ce le giocheremo sicuramente con onore fino alla fine sperando di mantenere almeno una posizione di classifica tale che ti faccia giocare i play-out in casa magari quindi arrivare quarto ultimi o quinto ultimi o sperare addirittura nella distanza dei punti ma oggi ho letto anche che il Faras prima ha vinto a Vezzano mi pare se è definitivo ha vinto lì quindi con l'Orione non lo so, vediamo Il Minerva invece si è tirato fuori da questi discorsi? Beh, loro devono recuperare la gara con il Celano mi pare giovedì se non erro poi se vincono anche il recupero sì diciamo che si mettono abbastanza a una buona distanza vincere oggi era importante perché avremmo risucchiato anche loro anche se con una partita in meno le avremmo raggiunto in classifica perché i risultati da come poi vedevo prima il Città di Chieti vinceva con l'Aquila bene o male non è cambiata quindi avremmo tirato anche un'altra squadra magari giù ma così penso che se loro giocano così e saranno concreti come lo sono stati con noi sicuramente non avranno problemi per la salvezza grazie a tutti